ciao grazie fabio per i 200 grazie cucciolo non ho capito un c***o raga non ho capito un c***o grazie mille fabio perché stai facendo un video ma chi mi sto parlando di chi quella al ristorante io le insultate io le insultate io le insultate io le insultate vabbè perché tu mi hai fatto vivere adesso parliamo parliamo di quello che è successo adesso ho fatto la video chiamata ok a posto ma che c***o di toni fai rai ora che ti seguivo finché gli insulti la gente dietro chi insulta la gente no perché ti rimette dietro le tipe per fare il video non è che ti devi incazzare perché ho fatto il tono alto dopo che ti ho chiesto perché mi facevi il video fai un attimo il corrente ragazzino no perché sei davanti a lui cioè davanti a mia sorella non sai che si è preso un botto di insulti tua sorella? si hai fatto rimuovere il video quello lì eh? l'ho fatto rimuovere pure quel video dai insomma io non botte di video l'ho fatto pure rimuovere qua tutti i video che avevo chiesto di rimuovere io l'ho rimossi ma vero che quelli che ti insultano sui ticci io appunto guarda che io ti rispetto perché per leggere il ticci ho capito però non è che ti faccio anche la gente però aspetta ripeti che non ha capito niente lo sai che stai facendo le live ma che mi possono perdere di strano non frega un cazzo ma che sto registrando a te? però non frega un cazzo comunque perché ti sei assalito di loro a filmarle e stai calma e alciata la voce con mia sorella ma alciata la voce con tua sorella? si ha detto sì ma stai calma hai detto lo stai calma tutto qua eh non significa alciata la voce significa cercare di calmare le persone e basta perché ti sei permesso di alciata la voce con mia sorella? no no alciata la voce nessuno io ho parlato con i toni con cui lei mi ha parlato tranquillamente eh perché ti sei assi comunque davanti a loro? comunque perché lo sapevi che vabbè ciao grazie Giorgio per il ricetto ok ciao caro un bacione ti auguro di diplomarti nella vita non lo so raga non ho capito se posso maschi o una femmina ok no c'ha ragione eh per l'amor di dio infatti io non ho smesso di fare le live dove mi metto a filmare le persone c'ha in parte anche ragione però frate non puoi non puoi venirmi davanti a quel telefono a farmi il video ridendo e poi dopo che ti chiedo perché mi fai il video quando stavo palesemente scherzando stavo palesemente scherzando lui si piglia male capiti? non ha senso raga non ha senso non ha senso cioè sei autofregato da solo can i say can i say hi to fede you hi fede you hi fede you you are the best freebooter in the town best 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 freebooter in the town yes yes